Mi chiamo Alessandro Sanna e sono il capitano dell'oratorio San Carlo Borremano di Cagliari. L'anno scorso abbiamo vinto la prima edizione della Junior Team Cup, è stato molto bello. Abbiamo giocato la finale allo Stadio Olimpico di Roma e abbiamo battuto per 4-1 il Bologna. Io e la mia squadra auguriamo ai doratori di Cagliari che oggi si viseranno allo Stadio Sant'Elia. Buona fortuna e in bocca al lupo! Forza Junior Team Cup! E' un onore riuscire a giocare in questo Stadio. Oggi dobbiamo sfidare la Madonna di Nourdes e siamo molto felici, abbiamo molta emozione per giocare. Sono Alessandro, ho 13 anni e per me è molto importante giocare nella Junior Team Cup, di giocare insieme ai miei compagni, anche se sono l'unica femmina in questa squadra. E' molto importante perché incontro i giocatori del cuore. E' un'esperienza che forse non dimenticherò mai. No vabbè, possiamo fare di meglio secondo me. Ci siamo allenati e quindi... Ma deve essere più grintosi, manca solo questo, la grinta e la voglia di giocare. Oggi voglio vedere una squadra che gioca a pallone. Siamo tutti allo stesso livello, ci si aiuta in campo, non voglio sentire nessuno che riprofere il compagno per un passaggio sbagliato. Voglio soprattutto concentrazione da parte volta. Stavo aspettando tutta la partita di fare il gol e alla fine ci sono riuscito. Il bullismo è come se fosse un ostacolo che però noi dobbiamo affrontarlo. Perché il bull è colui che si crede di essere più grande di noi e in realtà è il più debole di noi. Il bullo è uno che a sua volta ha subito il bullismo. Non bisogna essere oppressi nel mondo, non bisogna essere oppressi dal bullo. Non bisogna essere oppressi nel mondo, non bisogna essere oppressi nel mondo, non bisogna essere oppressi nel mondo. L'URODICA MAIOR!